Adesso, finalmente, sale con noi, noi siamo i bartender Ci trovate anche su internet, se cercate Pincio trovate i bartender No, c'è il sito bartendersound.com, se siete interessati potete vedere video, audio, eccetera, eccetera Sta arrivando, eccolo laggiù, già lo vedo con l'archetto pronto Direttamente dal New Jersey, Yuri Turchin al violino, un applauso, grazie Fate un bel applauso Per noi è un onore, ci siamo conosciuti un mese e mezzo fa e da allora è tornato, è tornato con noi Fate, 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 Fate Grazie 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 Sweet Dr. Brown 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.